ariete ami stare in compagnia ami avere intorno le persone care plutone ti richiamerà presto agli affari ma il lavoro serve anche a divertirsi toro giove ti invita a fare conti con quello che hai concentrati su progetti e i lavori che stai già seguendo gemelli giornata intensa impegno appuntamenti che non potevano incastrarsi in modo peggiore a fine giornata sarai esausto e vorrai solo dormirci su cancro venere oggi vuole la tua mente tutta per sé va bene il lavoro ma oggi ti servono emozioni forti leone intesa sensualità affetto e bisogno l'uno dell'altro ti sentirai legato indissolubilmente al partner venere forte e amante perfetta vergine il lavoro può anche essere una dimensione in cui rifugiarsi quando qualcosa non va ma se si tratta di un problema di cuore neanche giove saprà esserti molto d'aiuto bilancia marte non aiuta sei ansioso all'ennesima potenza un po di relax mentale e la giusta concentrazione per non fare danni scorpione sarà una giornata di successi e conferma e di stima da parte di chi ti avvicini sagittario irresistibile sarà lo sguardo il profumo ma oggi sei motivo di grande distrazione al lavoro distrazione per gli altri ma non per te capricorno fa parte del tuo dna ma dato che ami perfezionarti oggi il tuo livello di concentrazione supererà ogni aspettativa acquario fai attenzione non abbassare la guardia fidarsi è bene non fidarsi tante volte evita qualche problema pesci giornata di lavoro serena sai già bene cosa devi fare cosa ti aspetta impegni presi e altro settimana intensa e ricca di sorprese